Poi per questo noi ci astenemmo sulla Commissione e fumo noi, diciamo, tacciati di antisemitismo. Però poi i nodi vengono al pettine. Quindi forse una valutazione, una riflessione seria su il fatto che delle volte si è messa un po' la testa sotto la sabbia vale la pena di farlo. Dopodiché quello che noi abbiamo fatto in questo momento, intanto come sa, anzi le do una notizia, perché lei sa che il prefetto Pecoraro si è dimesso, per ragioni personali, dal suo incarico che riguarda questa materia e noi siamo in procinto di nominare il generale Angelo Santo, che è già stato capo del ROS, una persona generale molto autorevole, a occuparsi di questa materia. Sul piano della sicurezza, come lei sa, abbiamo lavorato da subito con il ministro Piantedosi, che ringrazio per questo lavoro, soprattutto per mettere in sicurezza le nostre luoghi sensibili, le nostre comunità ebraiche in Italia, ma dopodiché io penso che bisogna lavorare sul piano culturale. E forse la cosa più intelligente che possiamo fare, soprattutto verso le giovani generazioni, è far conoscere cosa sia Israele.